buongiorno bimbi eccomi qua sono la maestra monica da oggi è attiva la nuova piattaforma we school che questa piattaforma che è una specie di social network per noi della scuola bimbi e maestre troverete questa piattaforma i compiti le lezioni e magari anche solo i saluti delle vostre maestre e quindi da lunedì si comincia con questo nuovo sistema anche noi maestre stiamo iniziando a usarlo da poco e quindi anche noi non siamo espertissime impareremo tutti insieme è una sorta di social network che ci consente di lavorare a distanza rimanderemo delle schede dei pdf da scaricare come facevamo via mail adesso lo faremo attraverso questa piattaforma riceverete anche delle lezioncine brevi di spiegazioni attraverso delle piccole presentazioni con delle slide e la nostra voce è registrata in sottofondo oppure dei brevi video come questi cercheremo anche di fare l'aula multimediale quindi vi daremo degli appuntamenti giorno e ora in cui voi vi dovrete collegare così ci potremo salutare di persona vi daremo maggiori informazioni nei prossimi giorni per intanto volevamo salutarvi ci sarà anche un video della maestra caterina ci dobbiamo adattare finirà tutto questo vi ricordiamo di rispettare le regole che vi stanno dando quindi non uscite di casa se non per necessità impellenti potete fare delle brevi passeggiate vicino a casa non cambiate comune non vi spostate da un comune all'altro ditelo anche i vostri genitori cercate di essere religi perché più stiamo a casa più in fretta si esce da questa situazione vi voglio un mondo di bene mi mancate un sacco non vedo l'ora che finisca tutto questo per potervi riabbracciare uno per uno a presto